Il nostro vice sindaco Lorenzo è una persona che ogni amministrazione, ogni sindaco vorrebbe avere al suo fianco. È stata una persona che ci ha guidato in questi anni e grazie a lui se l'amministrazione che rappresento si è messa insieme ed è riuscita a fare un percorso comune. Ed era un pozzo di notizie, un pozzo di norme, era un pozzo di passione. E quando si parla di Lorenzo Zain non riesce a non pensare a tutto quello che ha fatto sia per il comune di Romano negli ultimi anni, in passato, ma anche per tutto il territorio del Bassanese. Per cui un ricordo alla sua competenza, al rilievo che ha avuto, al peso che ha avuto in tutto il nostro territorio è fondamentale ed è doveroso.